Anche ad Arezzo è partita la campagna vaccinale nelle farmacie del territorio. Sarà possibile effettuare in sicurezza anche quest'anno il vaccino anti-influenzale in convenzione non è quello contro il Covid. Ci si potrà ovviamente vaccinare anche presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. È poi possibile anche la cosomministrazione. Vaccino gratuito può fare sia la vaccinazione anti-influenzale che anti-Covid. I vaccini sono gli stessi quindi si accede sempre alla stessa campagna vaccinale con la stessa tipologia di vaccino. Vaccinazioni gratuite per gli over 65 e per i pazienti fragili? Esatto, è gratuita sopra i 60 anni ma chi ne facesse comunque bisogno può accedere alla vaccinazione in farmacia anche dietro pagamento del vaccino stesso. A chi è consigliato? È consigliato a chi magari è un soggetto fragile quindi per alcune patologie tipo cronico ha bisogno di una copertura vaccinale per entrambe le tipologie di vaccinazioni. Per soggetti che vengono a contatto frequentemente anche per motivi di lavoro anche ai virus stagionali, influenzali e Covid che attualmente ancora comunque circolano. C'è un altro servizio sempre gratuito all'interno delle farmacie che prosegue quello dello screening gratuito per quello che riguarda l'epatite C. Esatto, anche questa è una campagna messa a disposizione dalla regione toscana, ci siamo messi a disposizione proprio per favorire la capillarità con il nostro servizio proprio di questa forma di screening e cercare quindi di arrivare ad una copertura maggiore proprio come screening e individuare quindi casi già sul nascere. Resta attiva infine dallo scorso giugno anche la possibilità di effettuare sempre in farmacia lo screening gratuito pungilito epatite C con sangue capillare. Grazie. Grazie.